Cari ragazzi e care ragazze, benvenuti sul mio canale. In questo spazio troverete diverse playlist. La prima, quella più importante, e quella a cui dedico la maggior parte delle mie forze e proprio vicende appunti di storia della musica. Se è una playlist dedicata appunto a brevi lezioni sulla storia della musica occidentale che io dedico soprattutto ai miei alunni del liceo musicale, ma che sono ovviamente aperte anche agli studenti dei conservatori, dei licei musicali d'Italia e in generale di tutti gli appassionati. Accanto a questa troverete anche una playlist dedicata invece alla mia attività compositiva, la playlist dedicata in particolar modo ai giganti della montagna. Alcuni materiali sono presenti qui, il resto lo trovate sparso in giro per youtube come topic. In ultimo troverete anche qualche piccola digressione culinaria, qualche piccolo divertissement sulla playlist chiamata Che bocconi da gigante? Qualche piccola chicca sulla cucina regionale, in particolar modo siciliana, ma di tutte le regioni dalle quali posso attingere piatti buoni e succuranti. Spero vi divertiate a esplorare questo canale, suggeritelo agli amici, sottoscrivete, accendete la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo diretto. Che dire, divertitevi e grazie della vostra presenza.